Qualcuno forse aspetta il morto. È il commento di Giuseppe Di Domizio, segretario provinciale del SINAP, il sindacato nazionale autonomo di polizia penitenziaria che ha denunciato l'ultima aggressione ai danni di un poliziotto nel carcere di San Donato a Pescara, istituto che a fronte di una pianta organica di 240 detenuti ne ospita quasi 400, mentre gli agenti sottodimensionati sono un'ottantina. I fatti risalgono ieri mattina. Il detenuto avrebbe intrapreso una protesta pretestuosa da prima contro il poliziotto addetto alla sezione danneggiando un vetro del box. Non appena la gente ha dato l'allarme sul posto sono giunti i sotto ufficiali addetti al reparto che hanno immediatamente cercato una mediazione con il detenuto per riportarlo alla calma. L'uomo però ha reagito brandendo una padella e aggredendo il sovrintendente che è stato subito a soccorso e accompagnato presso il nosocomio pescarese dei colleghi dove i sanitari gli hanno riscontrato un trauma facciale con una prognosi di sei giorni. L'unica cosa certa, continua nella nota il Sinappe, è che non è la prima volta che questo detenuto aggredisce i poliziotti. La polizia penitenziaria è sotto attacco da anni tra la mancanza cronica di agenti e il sovraffollamento del penitenziario a un punto tale che non si riescono più a garantire ai detenuti neppure lenzuola e coperte. La polizia penitenziaria è stanca, conclude il Sinappe, Roma è sorda e con essa la politica.